E' arrivato ieri mattina per la prima volta in stazione a Pescara Centrale il treno ETR 500, il frecciarossa ad alta velocità TI 9595. Tantissime le persone presenti sul binario 2 della stazione centrale del capoluogo adriatico per assistere a quello che si spera sia il primo passo per portare l'alta velocità in Abruzzo. Il TI 9595 partirà da Milano Centrale alle 7.50 e giungerà a Bari Centrale alle 14.20 con fermate intermedie a Bologna, Rimini, Ancona, Pescara e Foggia. Il ritorno partirà da Bari alle 16.20 e arriverà a Milano Centrale alle 22.50 con le stesse fermate intermedie. Qui noi rientriamo dentro la programmazione delle comunicazioni nazionali. Noi eravamo fuori, eravamo la regione fuori dal collegamento ferroviario, eravamo la regione isolata, oggi non lo siamo più. L'alta velocità comunque sarà al momento solo da Milano a Bologna ma lungo la dorsale adriatico fino a Bari il frecciarossa avrà la priorità di precedenza su tutti i treni in transito e farà solo quattro fermate. Oggi inizia sulla linea adriatica il servizio frecciarossa. Da oggi con l'attivazione dei due servizi commerciali sarà possibile per l'Abruzzo raggiungere Milano nel tempo di 4 ore e Bologna nel tempo di 2.50. Il primo passo è stato quindi compiuto. Un percorso ad alta velocità sulla direttrice adriatica è stato pensato. Ora bisogna lavorare per portare in Abruzzo i binari ad alta velocità.